Lo scontro è fra Renzi e 60 milioni di italiani, perché questo fa il fenomeno spendendo soldi che non ha, rubandoli ai comuni e alle regioni, a cui ruba miliardi, e poi comuni e regioni che sono costretti o a chiudere asili ospedali o a aumentare le tasse a livello locale. Glielo dicono perfino i suoi del PD, quindi spero che la smetta di fare il fenomeno, perché non possiamo pagare come italiani la campagna elettorale permanente a Renzi. Lasci fare ai comuni e alle regioni quelli che sono in grado di fare.